dal regista di quel film quello la una storia strappa lacrime una strappa storia lacrime ripare l'università all'estero e divenire uno scienziato una lacrima strappa storia cos'è che mio padre mi manda a studiare all'estero ma ce li ha i soldi ma pino mio ma tu ce li hai i soldi per mandarmi all'estero a divenire uno scienziato ma certo che ce li ho mangia adesso una lacrima storia strappa mio padre ha detto che ce li ha i soldi sicuro sorella mia prestami dei soldi che fernandello deve divenire uno scienziato chi è? no amore niente sono solo testimone di geova dai produttori di contante assassino e tre metri sopra il grano marina invernizzi maccio camariottile e massimo giuliani mi faccia un prestito la prego mi dica quanto le serve 66 67 euro ma cosa vuole che siano? so soldi so soldi un film che bada a spese e non perdete il sequel si ma stiamo comunque parlando di una cifra inigua so comunque soldi so comunque soldi oh no so soldi e non perdete le mie si ma non perdete le mie